Penso che dovremmo fare molta attenzione alla Juventus. È una squadra molto ben organizzata. Hanno ottimi giocatori ed hanno vinto contro i detentori della Champions. La gente pensa che vinceremo facilmente. Ma fortunatamente noi giocatori non la pensiamo allo stesso modo. Crediamo che sarà una sfida molto dura, come tutte le finali. Le squadre non arrivano ad una finale per caso. C'è sempre tanto lavoro alle spalle. E sono sicuro che questo sia il caso della Juventus. Dobbiamo fare attenzione ad ogni dettaglio ed essere più concentrati del solito perché la partita non sarà facile avendo contro un avversario molto forte. perché sarà un partito molto difficile, molto duro perché davanti abbiamo un grandissimo rival.